Magico ciao ragazzi, oggi sono qua perchè vi devo far vedere un canale strano E' uno di quei canali che si vede una volta sola e poi si muore credo Perchè è uno di quei canali che tu dici Ma questo è un canale strano Non ha senso questo canale Non ha senso Ma c'è anche una cosa che devo dire Allora, questo come si fa? Ecco, è il canale questo qua, ve l'ho messo qui così potete vederlo Poi lo toglierò da qui Come si fa? E' un canale che è stato aperto poco tempo fa, no? Ecco, intanto vedete sta cosa? Non lo so neanche io E' un canale che è stato aperto poco fa E che io l'ho visto e gli ho detto Ah mamma sei bravo, cioè sei bravo, mi fai ridere E non lo so E poi mi ha detto E io faccio video scemi Va bene, basta Poi basta, non l'ho più sentito, basta Non l'ho più sentito E ho detto ci mettiamo nei canali così preferiti E io gli ho detto va bene Poi mi ha messo subito Quindi è una persona giusta Però poi non l'ho più sentito E ho detto vabbè, questo qui farà video così Cioè non sarà nessuno Poi invece vado a vedere 50.000 visualizzazioni Come che è un impossibile Cioè non ha proprio senso Con il video che fa Cioè ottiene così visualizzazioni E' vero che a volte gli ho condiviso qualche video Ma proprio così Perché mi faceva ridere Ma poi Non lo so Non capisco come abbia fatto Cioè ho visto una settimana fa Aveva pochissime visualizzazioni Oggi di colpo E una settimana cos'è? Venta il campione del mondo? Venta lo youtuber più visto? Come si fa la cacca? Buh Sicuramente E' un youtuber Poi chi è? Wikipedia Cioè questo qui Questo qui è il signore Che ha fatto Wikipedia Quindi Buh Veramente ragazzi Io non lo conosco Cioè voglio dirti Come si fa Se tu stai vedendo questo video Mi puoi dire chi sei Perché Non lo so 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 Buh E' un canale strano Un canale strano Strano Molto strano Strano